vai adesso vi ho rotto questo io è Renato? sì sì questo è il nostro già è l'oro di media 41-42 ogni tanto si riposa è vero questo è un po' faiato è di fia scusate è perché adesso bisogna entrare meglio l'alto hai visto amore? hai dato anche il latte al bimbo del pitellino guarda che ci devono più tenere qua è il latte è il nome della pappa adesso ma non c'entrava di chiedere la bocca aperta andiamo a vedere questo è nato ieri? questo è nero e bianco questo sarà 46-47 kg mamma mia